musica 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 non capire tipo in una camera ce lo potrebbero stare dei guanti no non c'è un cazzo si ma te le posso anche pigliare gamba di tavola mi interessa ciao che desidera lo zucchero l'ho finito anch'io quindi non glielo posso dare fidi la porta che sennò entra vento allora qui c'è una ship qui c'è una ship ci deve essere un secondo piano allora perchè io non ho trovato niente in più mi sta io non trovo niente magari ce l'ho davanti e non l'ho visto e sono così demente non ho vederlo ecco sembra fatto apposta hai trovato utensili yeeeh quindi qui ho fatto che è questo ad abbattere uno zombie selvaggio di là c'è l'orda che mi aspetta amorevolmente non si può allontanare un po' la visuale che sennò mezzoni meglio dei piattelli non c'è nient'altro qua non trovo niente ho ruffolato tutto ho ruffolato tutto nulla nulla vuoi per utensili cos'altro comodino ok era qua il comodino guanti pesanti lo zaino sto troio io qui non c'è nient'altro ora tiro il mondo quindi suggerirei di fare una bella cosa di pigliare e andarsene via e attendere che se ne vadi un po' l'orda muoviti muoviti e leva certo che anch'io collaboro con questa guida di cazzo no no aspetta un'anima qui perché ci sono 20.000 lenti di ingrandimento insomma i besti alleati vorrebbero unirsi a noi perfetto ora un attimo che poso un po' di roba ora si fa tutto quello che volete ok sono libero e chiaro ci vediamo in breve ho trovato ok poggia allora che è qua ah devo posare ora puoi toglierlo dalla lista questo ah perché gli sto portando i rifornimenti per costruire allora qualcuno ha bisogno di fare due chiacchiere quali sono gli alleati che si vogliono unire a noi super siete amichevoli area medico complete vada lì che roba bla 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 accendi sto maschino eh vabbè ma te devi rompere staccati che c'è la colla al posto delle mani ha bisogno di una scatta fino a casa non ti preoccupare ci pensa a me piano allora ha dei freni spettacolari sta macchina è veloce ok però si rompe troppo facilmente ehm ah quei ah sono loro si sono quelli di prima perfetto quindi avete deciso di unirvi a me sono ah chi è il capo di che non c'è ah ma buonissimo qui vuoi semplicemente con me perciò spero poterci unire al bassurio certo si ma devo parlare con lei che dici grazie per le belle parole perchè dovresti inirti a noi grazie hai salvato le nostre vidi ma tranquillo ero io che ero in scorte io sto ah appunto stanno prendendo tutti i rifornimenti che c'hanno bene fate bene almeno si collaborare è meglio ora però c'è un problema la mia macchina ha due posti e c'è sta nata perchè gli zombie devono apparire nei momenti meno opportuni da dietro perchè processo bloccato? quazza boia proprio nessuna pietà dai cerca io mi proteggo salve ci sono rimbalzato e pigiali tutti dai su ritorna speriamo che non si sia buggato piuttosto dai su ritorna a cos'are processo raccorto noi torniamo in casa penso che sia la cosa più sicura no? ok allora stiamo a prendere una boccata d'aria e lì ci sta la macchina che ci serve vai chiudo qua scaffagiolo siamo in quattro giusto? siamo in quattro vero? siamo in quattro in caso ci dovrebbe si si tranquillo io vado a prendere la macchina qui in caso ci dovremmo fare una fuga veloce la mina è anche nuova guarda guarda che parcheggino perchè processo bloccato? che è successo? ah ci sono gli zombie eh fate bene allora merda arrivo arrivo vada lì come li smanetto tutti grandissimo vai ritorna con il processo di sminchiaggio vai quindi si ritorna a 15 se non sbaglio eh 11 più 4 15 eeeh so che non avete neanche vabbè le munizioni potrebbero servire ma intanto penso che ve le portate dietro ci stanno affrontando loro due lì fuori poi qua ma porca allora via giù io proteggo da dietro cucù ma levati dai su ritorna a raccogliere San De Santis eeeh vi scoccia se ma sento un attimo tipo volevo vedere cosa ah dolce successo no che palle si va si va scendi questi mi si pappano tutti i super estiti via 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 andiamocene andiamocene vieni tutti qua veloci vai accendo il cammincino addia macchina figa intanto ne ritroveremo parecchi altri ecco ho già scondato la macchina 1 ordore 12 2 orde se non sbaglio eeeh siamo arrivati a casa tranquilli ragazzi state con star black e voi forti sopravviverete ok questo è tutto che abbiamo bisogno grande ah vi devo proprio accompagnare in casa proprio vi devo anche dare la pappa pronta che spiegata la tendina ah ma è quella che c'era prima di la necessità di quanti pesanti ehi son qua eh non vi si mangia potete entrare voi voi ah devono oh e ci sono eh saluta e sei buggato allora non c'è verso vediamo ora se la raccorta superstiti oh maoi tieniamo via non vi piantate oh no no te vieni qua sennò ti ripianti vieni dentro dentro superstiti amichevoli chi bussa la porta a tua mamma ok si è fatto hai aggiunto il dispercito della comunità premi i tap per aprire il diario poi accedi alla pagina per sempre scoprire come fare amicizia malato merda sognatore amava la fotografia è quello malato che mi preoccupa vabbè volevo vedere che cazzo vuoi sta ancora qui cazzo vuoi sta ancora qui Jack Creek proviamo a fare il cambio con lui vediamo se è figo non mi garbano le sue impostazioni provo dammi il cambio non mi garbo dov'è la donna quella figa ti che cazzo sei sempre ti sei delle munizioni c'è del tiro per delle nozioni un attimo un attimo voglio prima cercare un personaggio figo te che mi dici? non è niente com'è questa? mi sembra cazzo però eviterei di sacrificare altre donne ce n'è morta già una le donne ci servono per ripopolare il mondo una volta superata l'apocalisse zombie quindi dov'è la tizia quella rossa? anzi richiattiamo Shehead che lui sta lì a grattarsi le natiche yo 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 facciamo dei passi? perchè devi andartene? che succede? non ho capito fammi vedere un attimo le missioni qualcuno ha bisogno di fare dei chiacchiere vabbè magari non lo farei parlare con uno appena arrivato io fammi cacciare da uno che è appena arrivato col cavolo facciamo a cambio tanto tu guarda sei già ripreso non te ne parvi te che vuoi? dopo dopo facciamo dei passi fai strada ma non sei già fatta questa missione è un'altra volta la vuoi fare quindi abbiamo avuto un po' brutto successo eh? sì non siamo mai a tirare il fiato vabbè vabbè la fiducia serve a poco per per campare in un'apocalisse zone ok ora siamo a matare alcuni zombie è l'ultima famiglia ah lui praticamente ci aiuta a ripulire le zone ecco io me le sto guardando alle spalle ah si si vabbè io entro wow grazie per stami a guardare guarda ti ringrazio molte carica accendi guarda qui come li ssssss ok mi è arrivato anche un messaggino quindi vediamo che dicono vuoto chiudi la porta chiudi la porta va bene ci pensi te e raggio vediamo che c'è uuuuuh armona pensa quindi direi di abbandonare questo anzi usa prendi questo qui che è ha un mitra tutto tracazzuto ok ok muori ce n'è dell'altro sgombra l'aria ok finchè non finiscono sti cosi non possiamo fare niente so che non è facile non saprei forse ma perchè che ha non ho capito si va ma scusa vabbè se ne potete approfittare per vedere se ci sono dei rifornimenti di ma se è tutto dentro rincerò la ragione di sfogarti grazie ah è un po' depresso un po' vai torniamo a casa e e sai come è nuovo intanto qui grazie per l'incorgimento mi è stato utile prego prego non ti preoccupare gli amici servono a questo poi non male ti scorderò ti scorterò tranquillo si va in macchina guido io dove sei vieni qua oh mi hanno riparato la macchina salta su guido io wow anche sta macchinina qui non scherza quando gli va eh che cazzo c'è laggiù piano ordo di zombie alertata ma tanto noi dell'ordo di zombie non ce ne sbatte nulla dove mi stanno andando a infrascare scusa guarda qua mmm che deve andare a pesca di domenica tu va per vabbè per si sarebbe la cosa più comoda per rilassarsi un attimino ah vuoi andare a cercare la sbobba dirige al sbobbo dello scambio beh scambio di gnocca aiutiamo la tipa ma quasi normale saresti già morta bimba allora mentre voi fate scambi e cazzi massivari io voglio cercare qui veloce tanto ormai c'è l'ordine di zombie qui mmm questo la prendo mmm eeeh eeeh tranquilla te lo sbudello io bossa e zero ragazzi posso un attimo la roba qui dietro così almeno cioè ne approfittiamo no no l'urlatore se così si chiama questo qui mi attira al mondo vai un colpo deciso tom tom mamma mia aspetta aspetta volevo vedere l'ultima cosa qua no ho detto ah me l'ha già preso perfetto dov'è? torna a casa avete già fatto te bimba non vieni con noi rimani da sola a mezzo agli zombie ok affari tuoi io non ci voglio entrare nei tuoi affari ok posa andiamo scusa potrei montare davanti con me non sono mica un tassista ah scusa sbagliato non sono mica un tassista non stavo cagando perchè sto mandando un messaggio al telefono scusate ragazzi sto guidando la sceca wow vedi ora nascondisi scoperto babbo natale e suo entuso io non so cioè va bene anche l'apocalisse zombie la solitudine e la malinconia ma ora babbo natale ok va che siamo arrivati olè ti paccio ti riporto a Kaizen vivon tutto vivon ah che bella orazioni quotidiane toh vieni qua oh che palle si è impallato anche lui ehi ok non fare scherzi vieni oh ci corita con sti famo scherzi eh toh qui ce la fai vieni oh spingiamo il faro yeah we made it giusto devo tornare anche su the walking dead del terzo episodio che sto litigando con le traduzioni in italiano quindi non so quando riuscirò ad andare avanti qui devo posare della roba quindi andiamo a posare la roba posa la roba su chiapiseli allora appoggio questo 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 uno di questo e sono a posto semmai prendere un'arma da corpo a corpo c'è qualche accetta figa a parte quella lì piccina ah vabbè grabiamoci questo poi sto iniziando a fare buio non voglio rilevire una cazzata no è ancora il giorno perfetto approfittiamole finchè è giorno e poi questa gente è emocionale se non lo aiutiamo si ora la vado ad aiutare non è abbastanza materiali con un po' di check in agio possiamo tira lo zombie poi io cerco la coltivazione in serra commercio accesso accesso vabbè ho sbagliato però vabbè devo andare ci sono dei superstiti da cercare incontrati con rei santo c'è troppa gente soprafago siiii aiuta con una consegna un mister sorgente un amico nei guai andiamo a vedere questo termina qui questo video gameplay mi piace già te iscrivetevi al canale se non siete già iscritti e alla fanpage di facebook che trovate in descrizione ciao a tutti e alla prossima ciao ciao Ciao.